Mamma! Per Lucky! Mini Lucky, non sputare il tuo ciuccio! Fammi controllare se il tuo latte si è riscaldato! Ah, esatto, il latte! Dobbiamo vedere se si è riscaldato! Ah, perfetto! Sto arrivando a Mini Lucky! Arrivo, arrivo! Eccomi! Vedi! Ciao! Lucky, stai dando da mangiare a Mini Lucky? Aiutiamolo! Maria, continua a piangere! Lucky, quanti mesi ha adesso il tuo piccolo conigli? Il tuo piccolo coniglietto? Cinque! Allora, è ora di iniziare a dargli cibo solido! Cibo solido? Sì! Quando i bambini piccoli diventano grandi, il latte non gli basta più! Dobbiamo dargli da mangiare porridge, frutta e verdura! Delizioso! Mi insegni a cucinare il porridge! Oh, è davvero facile! Andiamo in cucina! E porteremo anche te! Spingi avanti e indietro! Per prima cosa, scegliamo un tipo di porridge per Dorian! Grano saraceno o farina d'avena? Cosa preferisci? Grano saraceno! Ma, con cosa si fa il porridge per i conigli di peluche? Con la sabbia! Chi viene alla sabbiera? Arrivo, arrivo! Ti aiuterò! Secchio! Salto saltino! Lucky è saltato sul camion! Assicurati di tenere stretto, mini Lucky! Mi aiuterai? Mi aiuterai? Non mangiarla! Non mettere la corda in bocca! Tira lei, basta! Aspetta, mini Lucky! Aspetta! Oh, Maria! C'è già una pala qui! Aspetta! Così! Oh, questa pala è molto più grande della mia paletta! Basterà una pala! Una pala! Carico! Lucky, veloce! Presto! I piccoli avranno presto fame! Sto arrivando! Sto arrivando! Non posso fermarmi! Oh, oh, oh! Eccomi! È giusto in tempo! Io ho già... ...fatto bollire l'acqua! Mettiamo nella pentola qualche cucchiaio di porridge! Aggiungiamo l'acqua... E mescoliamo il porridge di grano saraceno e noi abbiamo il porridge di sabbia! Adesso pensiamo al pranzo! Quale piatto vuoi? Quello azzurro! Prendiamo un cucchiaio... Cucchiaio... O meglio... Prendiamone un po'! Aspetta! Ci serve un po' d'acqua calda! Versiamola dentro... Scegliamo un cucchiaio... Scegli ne uno! Come quello di Mini Lucky! Non c'è ancora niente! Dobbiamo mescolare! Anche io sto mescolando! Resisti Mini Lucky! Più veloce che posso! Devi mescolarlo bene... ...in modo che non ci siano grumi! Sistemiamo le sedie! E i bavaglini! Mettigli lì! Su! Dorian! Oggi avrai il bavaglino di Emily! Il porridge è avvenuto benissimo! Vero? Dorian è bravissimo ad aprire bene la bocca! Vero? Anche tua sorella e i tuoi fratelli adoravano il porridge! Meno ancora! Forza Mini Lucky! Facciamole vedere! Per Maria! Per Dorian! Ora Lucky puoi cucinare dei cibi solidi per i bambini! La prossima volta! Quando i più piccoli saranno un po' più grandi! Aggiungeremo al porridge dei condimenti gustosi! Ci vediamo nei prossimi video sul nostro canale! Ciao! Ciao ciao!